In collaborazione con l'associazione Occhi di Falco, il Museo Sanna di Sassari ha promosso un laboratorio storico didattico sulla falconeria, un volo nella storia per conoscere l'importanza dei rapaci nel Medioevo in Sardegna. Quando è stato introdotto in Italia nell'isola l'arte falconiera? Fu l'imperatore Federico II nella prima metà del XIII secolo. Per il territorio sardo la gestione e la tutela di questa attività è considerata dalla carta del logo del 1392 della giudicessa Eleonora d'Arborea, un testo normativo che prevedeva anche una prima tutela dei rapaci. Presente ancora nel 1800, fino ad oggi, nel dicembre del 2016 l'UNESCO ha riconosciuto la falconeria italiana come patrimonio immateriale dell'umanità. Nelle sale e nel giardino del Museo Sanna sono state svolte attività di laboratorio. Sono stati inoltre indossati abiti storici che riproducono quelli dei falconieri rappresentati nel testo di Federico II di Svevia, Dearte Venandi cum avibus. L'iniziativa ha compreso la descrizione in atomo funzionale dei rapaci, la loro fisiologia, le tecniche di caccia, la loro importanza nell'ambiente, il bird control e la valutazione del benessere dell'ecosistema.